Pioniere dell'arrampicata su ghiaccio in Italia alla fine degli anni 70, scopritore fra i primi dei massi erratici dell'anfiteatro morenico della Valle di Susa, guida alpina, esploratore di vie e gulotte sulle grandi pareti imalaiane e patagoniche. All'alpinista valsusino Giancarlo Grassi, il Museo Nazionale della Montagna di Torino, dedica la mostra all'inesauribile scalata di un sognatore, visitabile dal primo aprile scorso, giorno in cui ricorreva il 31esimo anniversario della scomparsa avvenuta sul Monte Bove nei Sibillini. Curata dal giornalista Enrico Camanni, da Veronica Lisino, responsabile della fototeca del Centro Documentazione e da Marco Ribetti, vice direttore del Museo della Montagna, l'esposizione racconta l'intensa vita di Giancarlo Grassi, originario di Condove, la molteplice attività alpinistica ed esplorativa che spazia dalle prime scalate giovanili sulle Alpicozie e Graie all'affermazione negli anni 70 con le prime ascensioni invernali e le vie nuove e poi il periodo del nuovo mattino condiviso con personaggi come Giampiero Motti e Danilo Galante, la scoperta delle gulotte e delle cascate di ghiaccio insieme all'amico Gianni Comino e poi ancora l'esplorazione sistematica dei massi dell'anfiteatro morenico della Valsusa. Grassi è stato il grande specialista del ghiaccio perché sul ghiaccio riusciva ad esprimere pienamente la sua fantasia e il bisogno di ricerca. Ha sostenuto con convinzione e dimostrato con coerenza che un passaggio su un masso riuscito dopo ripetuti tentativi offrirà il medesimo momento di soddisfazione di una grande ascensione in alta montagna. E dunque quale lezione lascia Giancarlo Grassi agli alpinisti del ventunesimo secolo? Risponde Enrico Camanni. Credo che certe persone e certi personaggi non si perdono mai. La lezione di Grassi sicuramente è la fantasia, la ricerca. Non andare dietro i sentieri comuni ma cercare sempre strade diverse, strade nuove, strade di fantasia. Per me questa è una cosa che non scompare con il tempo. Oltre alle quasi 100 fotografie selezionate dal fondo Giancarlo Grassi, costituito da più di 15.000 diapositive, il percorso espositivo si compone anche di materiali alpinistici che appartennero a Grassi e al primo periodo dell'evoluzione moderna della scalata su ghiaccio, tra la metà degli anni 70 e gli anni 80 del 900. Il visitatore ha l'occasione di viaggiare attraverso le tante vite di Grassi che comprendono l'attività su ghiaccio tra cascate gelate, gulot e seracchi, con interventi video a cura di Aurora Mechanica Narrative Space Studio di Torino. Interessanti i passaggi dell'uomo e dell'alpinista, dalle esperienze adolescenziali alle grandi imprese nella valle di Yosemite, dai massi della Val Susa ai viaggi in Scozia, dalle spedizioni sulle Ande in Africa, alle esplorazioni in Canada, Patagonia, Norvegia e Himalaya. All'inaugurazione della mostra era presente il vice sindaco metropolitano Jacopo Suppo, nella sua veste di sindaco di una comunità fiera di aver dato i Natali a un vero e proprio profeta dell'alpinismo mondiale. Giancarlo Grassi rappresenta ancora oggi uno dei punti più alti dell'alpinismo italiano e per noi condovesi sicuramente un personaggio davvero indimenticabile. A 30 anni ormai della sua scomparsa, le sue geste, le sue imprese sono ancora vive nella memoria dei tanti condovesi che l'hanno conosciuto e anche il suo modo di vivere l'alpinismo, di vivere la natura, così da eterno Peter Pan come qualcuno l'ha definito ma con grande profondità e con grande amore per la nostra madre terra. Giancarlo Grassi ha lasciato un segno davvero importante non solo nell'alpinismo ma anche nella comunità condovesi nella comunità valsusina. Spesso si parla di sviluppo montano, di aree interne, di territori marginali, ecco sono in realtà territori che hanno tanto da dire, tanto da raccontare e il loro sviluppo passa attraverso la conoscenza di questi territori, la conoscenza delle radici, dell'amore profondo che gli abitanti di questi luoghi nutrono nei confronti della montagna. Giancarlo Grassi ha rappresentato tutto questo e se oggi qui al Museo Nazionale della Montagna è stata allestita una mostra così ampia, così bella, così ricca, subito dopo una mostra importantissima dedicata a Walter Bonatti, ecco vuol dire che il segno che ha lasciato Grassi è importantissimo, non è stato dimenticato e penso possa significare davvero un elemento prezioso in un tempo in cui stiamo riscoprendo un pochettino il senso di stare a contatto con la natura, l'importanza di avere un ambiente a misura d'uomo e di ricostruire un pochettino un rapporto appunto con quelle che sono le nostre radici.